Piragotta piragrua i misteri su de s'archeologia sarda. Se io si noi vando a ragionare con Paolo Coroculo esti torravo in noi in trasmissioni, autodidatta, esperto di archeologia. Saluti e bene torravo, signor Coroculo. Saluti a tutti. Se io so in noi, voglio provare che s'archeologia sarda è tutto sbagliata. In verità di che l'incuno che non so re hanno, su ciccate dei guai, sa che sono verità di appizzare dei misteri sui due punti di me, in s'archeologia sarda. Certo, certo, ciccate dei guai. Vosti è sicuro che i sarcheologi sono sbagliato tutto? Senti contare una surra e vraulas, una surra e un testo. Scusi signor Coroculo, a parte io non comprendo il suo motivo di contare vraulas a pizzo della sarcheologia sarda, ma come ti fai a fare una cosa ecce grave? Con questa sicurezza vuoi? Ma è facile, tu fai una surra di provas, voglio un esempio. Certo voglio un esempio, certo. Fosti conosci di spiramidi. Certo che adesso conosci. Spiramidi, sì, ecco, ecco. E noi fonti nasce da spiramidi, secondo fosti. I spiramidi fonti nasce in Egitto. In Egitto, no sì, no, i spiramidi. Fonti nasce in Sardinia, in Egizia, in Egizia, in Egizia. In Egizia, in Egizia, in Egizia. In Egizia, in Egizia, in Egizia. Ma voi? Sì, sì, sì. Fosti mai stai in Sprazzas? In Sprazzas. Certo, sì, sì. Tu sei passato su Reortas in Sprazzas. Certo, certo. E non dà mai via questa piramidi. Non dà mai via. C'è piramidi? Sì, la piramidi dei Sprazzas. Sì, la piramidi dei Sprazzas. Eh, sì, sì, sì. Signor Corro, c'è un Sprazzas a Pubbiuscetti sul castello e poi dovevo salto velox. Piramidi. Bravo. Ecco, davo io con un monte, giusto? Sì. Cusso, cusso un suo castello, cusso un castello di un cucurio. Certo che da pubblico si bidei l'agro, si bidei l'agro. Cusso, cusso è sta piramidi, cusso è sta piramidi. No, cusso è sta un monte, signor Coro, cusso è sta un monte. No, è sta una piramidi, non dabbia sa fromma, teni sta fromma di piramidi. Come ti sei tu spiegata? E poi il faraone, signor Coro, scusi, 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 scusi. Se spiegazione non è difficile, cusso non è sta una piramidi, è sta un monte a fromma dei piramidi. E come ti chiuso, se ne era da chi ha suta a capo d'orso, lui sia da un urso veramente. È sta una vera da chi viene a fromma dei urso. Ma signor De Muro, i faraonesi, te ne andrà contato su questa popolazione. Ma la si perde i faraonesi. E' antico, piavo. La si perde. Ma vostè, da me è più il monte, orto bene? Certo che ha da più, biavo. Eh, ma la banda adesso è stata lì 129. Ma questo non mi dà rego, signor Coro, sinceramente. C'è sta fotografia, pregermi. E torra con sta fotografia. Se non sa sarate, foste in di oggi ha sempre questa fotografia. E c'è altro che ha questa fotografia. C'è, c'è questa fotografia. C'è, c'è questa fotografia. C'è, c'è questa fotografia. E' tra due bidi noi, e' tra due bidi. Su monte orto bene. No, sì, c'è bene, questo cucurio. Questo cucurio è monte, è tra due bidi. E' tra due bidi, ma è tra dei bidi. No, sì, c'è bene su cucurio, e noi. Tu sei o c'è, ma non bio nuda. E' tra due bidi. Su profilo di Giovanni Lillio. Torra di Giovanni Lillio. Giovanni Lillio, l'archeologo. Torra con Custastoria. Su gappè. Ancora con Custastoria. Su gappè, il bisoliero. A scurti, signor Colocco. Custa e Senna. Su naso. Non mi spingia, però. Debbiamo fuori dare. Messo dici, luego in Forasa. A Forasa. A Forasa, signor Colocco. No, sì, è su Muzuzac. A Forasa. Pira. Cotta. Pira. Crua.